Liete notizie in tempo di covid da Sant'Arsenio ieri a Napoli è nata una bambina da madre risultata positiva al covid. La giovane mamma originaria di Teggiano aveva scoperto nelle scorse settimane di aver contratto il virus dopo due tamponi con esito positivo. Dal 13 novembre scorso è stato necessario provvedere al ricovero ed è stata allora trasferita presso l'ospedale Federico secondo di Napoli. L'unico attrezzato per poter garantire adeguata assistenza alle partorienti in caso di positività al covid con percorsi di sicurezza ben definiti. L'unica struttura autorizzata dalla regione Campania per la gestione di casi simili. Ieri la bella notizia della nascita della piccola Yolanda che ha rallegrato la vita di mamma Mariangelo e Papa Angelo. Sia la mamma che la neonata godono di buona salute e ora tutta la famiglia attende con ansia il ritorno della neomamma e della piccola principessa. Mentre il vallo di Diano Tutto gioisce per la felice notizia che trasmette tanta speranza va detto che per la giovane mamma non è stato possibile ricorrere alle cure presso l'ospedale Luigi Curto di Polla non autorizzato e di conseguenza non preparato per consentire il parto in sicurezza in caso di positività al coronavirus. In ogni caso seppur lontana dalla sua terra e dalla sua famiglia Mariangelo è riuscita in serenità e adeguatamente assistita a dare alla luce una splendida bambina Yolanda che gode di ottima salute.